Ben trovati telespettatori di TV6, appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di Natale, ovvero per il 25 dicembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte del territorio nazionale avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Tuttavia soprattutto sulle regioni centrali assisteremo a dei passaggi di nuvolosità alta e stratificata. La ventilazione risulterà debole e variabile su gran parte del territorio e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale aumento. In dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche non varieranno, con i cieli che continueranno a presentarsi sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.